E' stato fondamentale mettermi in ascolto di un territorio e così ho conosciuto Remo. Non sapevo bene come guardarmi intorno e lui mi ha portato nel suo castagneto ed è stata una magia veramente, è stato scoprire veramente qualcosa di diverso da tutto quello che io mi ero un po' prefissata nella mia non conoscenza. Un giorno ho avuto l'incontro con questi signori che mi hanno veramente raccontato oltre la castagna che cosa c'è dietro la raccolta di un frutto. Mi hanno raccontato di canti, di favole, di felicità e io ho preso appunti, ho un taccuino in quei giorni dove segnavo tutto, scrivevo e ho scritto molte parole di quelle che loro mi hanno, di frasi, di pezzi che ho preso e ho fatto un po' miei. Sono stati utili perché a quel punto la magia che mi ha dato Remo, la magia che mi hanno dato queste parole, hanno fatto poi tutto loro e hanno messo insieme un progetto che è quello che vedete. Spero che veramente questo cuore arrivi veramente al cuore delle persone, ecco questo è un po' quello che mi piacerebbe fare. Diciamo che è stato un bel viaggio, ecco questo, è stato veramente un bel viaggio. Grazie a tutti.